Tratto da Antonio Albanese, personaggi. Quando Antonio in un'intervista dice Io ho sempre avuto la passione della pesca o la passione che mi ha trasmesso mio nonno di avere due piantine di olive per poter avere il proprio olio ma per vedere anche un pezzettino di terra. Dalle mie origini ho bisogno atavico di avere una sicurezza, un momento, uno spazio mio che mi sono conquistato piccolo, medio o grande, quello che è per poter trovare lì un po' di serenità e un po' di pace. Noi dobbiamo coccolarci, dobbiamo star bene, dobbiamo cercare di pensare che tutti siamo comunque fortunati. Questo è molto importante. Come di che io ci sono tanti piccoli hobby o passioni che però si stanno disperdendo. Se uno ama andare a pescare o a passeggiare, deve farlo. E sono tante le piccole cose che molti non fanno più. A me piace andare a pescare, però all'improvviso non sono più andato perché magari avevo delle cose più importanti da fare. Poi ci ho pensato, abbiamo sempre tutte delle cose più importanti da fare che non ci fanno stare bene, come se stare bene non fosse una cosa abbastanza importante. E questo è il problema. Si stanno perdendo le piccole cose. Quella cosa che ami, anche se apparentemente piccola e non ti dà guadagno, però ti dà la possibilità di farti star bene. Di sentire quella voce che ti dice Ma come sei fortunato? Fondamentalmente è questo. Siamo fortunati e lo stiamo dimenticando. Grazie Antonio.